La soddisfazione è sicuramente di aver tolto sul mercato questo grosso quantitativo di cocaina e il plauso chiaramente è dovuto esclusivamente a tutta la squadra investigativa che questa volta come non mai ha visto insieme squadra mobile in collaborazione con i due commissariati di Fano e di Urbino. Certo la preoccupazione è pensare ai tanti clienti che usufruiscono di questa cosa ma contemporaneamente la soddisfazione di aver tolto questa possibilità a questa clientela vasta di usufruire di questo prodotto nocivo. La piazza di Fano ed il Forsempronese erano il bacino principale nel quale l'uomo smerciava le notevoli quantità di dosi di stupefacente di altissima qualità che fruttavano al 63enne artigiano anche 100.000 euro al mese. L'uomo era già stato arrestato durante la scorsa operazione della mobile di Pesero denominata Pusher del 3 febbraio scorso dove all'interno dell'opificio dove egli era socio erano stati ritrovati 143 grammi di cocaina purissima ed ingenti somme di denaro provenienti dall'azione di spaccio. La polizia però ha continuato a tenerlo d'occhio perché alcuni elementi non convincevano gli investigatori e di fatti gli hanno dato ragione. L'uomo è risultato essere uno dei principali spacciatori di cocaina della zona che arrivava a tagliare anche un chilo di stupefacente al mese e nonostante avesse gli occhi della polizia addosso aveva preso alloggio in un albergo di calcinelli e continuava la sua attività di pusher. Questi elementi uniti al rischio di fuga e di inquinamento delle prove hanno fatto scattare la perquisizione che ha portato al ritrovamento all'interno della sua stanza di un panetto di droga confezionato del peso di 600 grammi. La nostra attività è stata proporzionale a questo giro di droga, di traffico di sostanze stupefacenti quindi ci ha impegnato molto però non l'abbiamo mollato neanche dopo il primo arresto proprio perché avevamo capito da molte delle risultanze investigative che lui aveva ancora da muoversi molto nel territorio che è la prima fase quindi era solo interlocutori, era solo intermediari. Era molto cauto naturalmente che quando incontrava i clienti ancora nelle fasi successive al primo arresto non è che si esponesse più di tanto però il nostro lavoro insomma sappiamo con chi abbiamo a che fare e lo abbiamo seguito fino a prenderlo con la droga proprio il grosso diciamo il quantitativo che ancora gli era rimasto da piazzare sul mercato che lo teneva comunque con sé presso la camera d'albergo al Calcinelli. Al di là del risultato investigativo di grande spessore va rimarcato il fatto che avete tolto dalla circolazione un blockbuster notevole insomma. Sicuramente, entrare nel merito del mercato della droga è fondamentale per controllarne tutto il territorio di competenza quindi è una delle voci principali di guadagno per la criminalità e quindi assolutamente il nostro interessamento per la droga, per gli stupi facenti nel nostro territorio a Fano è fondamentale. La notevole capacità operativa dell'uomo ci fa rilevare il capo della mobile Silio Bozzi si evince da alcuni dettagli come la particolare cura nel confezionare il panetto che poteva anche essere tranquillamente sotterrato non temendo né agenti atmosferici né umidità e gli strumenti adoperati e la qualità purissima dello stupefacente che lo inquadrano sicuramente tra gli elementi di spicco nell'ambito dello smercio di droga della zona.